Grazie a tutti. 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 . . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. a tutti. . . a tutti. . 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 Si vede un ombra ogni tanto. . 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 Oh, quei quattro che si sono incartati sono tutti fermati, eh? Sì, sì, è uscito. Quei quattro che si sono incartati sono tutti fermati. Cristo via. Ah, sta nuonato. Eh, vuole. Sono assatanati, eh? Allora, grazie. E poi guardiamo se volete il ponte, e poi continuiamo a cuocche, guardiamo un po' di rinforzato. Un po' di rinforzato, pausa! Per un po' di rinforzato è un po' di rinforzato. Ma passate se arriva dal punto a sarebbe di rinforzato. Un po' di rinforzato si rinforzato nemmeno, Perché non lo so, che non lo so, che non lo so, che non lo so. E allora, un po' di rinforzato nemmeno. Grazie a tutti. Ah, ha sbagliato Giacomotti! Ha sbagliato Giacomotti! Ha sbagliato... Ha sbagliato... Gairo! Madagno! Sì! Ah, pure io! Eh, va bene! C'è la macchina frua! Mamma mia, Gaby!